Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano code a tratti tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. In A1 per consentire lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione, martedì notte, in orario 22.6, resterà chiuso completamente lo svincolo di Arezzo in entrambe le direzioni. In A11 per lavori di pavimentazione, lunedì e martedì notte, in orario 22.6, sarà chiusa l'entrata di Capannori in entrambe le direzioni, quindi verso Firenze e verso Pisa. Sulla strada regionale 302 Brisi-Ghellese-Ravennate, senso unico alternato per restringimento della carreggiata al chilometro 15980 nel comune di Vaglia, fino al 30 settembre. Muoversi in Toscana è un servizio e un collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!